Qual è la situazione oggi del trasporto in Abruzzo? La situazione del trasporto in Abruzzo è molto preoccupante, le spiedo perché? Perché si sta andando avanti con la parcellizzazione del TPL, incentivando il nanismo delle imprese e questo porterà sicuramente a nulla di buono, perché i cittadini abruzzesi non vedranno corrisporsi un servizio di qualità e una rete dei trasporti. Quello che manca è la programmazione di regione Abruzzo, che non fa una programmazione oculata e generale, ma lascia interpretare ai vari territori le varie situazioni. Oggi sciopero nazionale dei trasporti, ci sono delle manifestazioni anche in Abruzzo, ma non è casuale la vostra presenza oggi qui a Chieti nei pressi della panoramica? No, non è un caso perché purtroppo questa è una divertenza che si trascina dall'anno scorso, e c'è un vecchio proverbio antico che dice ogni disgrazia è provvidenza. E purtroppo questi signori, nella disgrazia, ricevono soldi dal governo, dalla regione, per i ristori, per le perdite che hanno avuto, fino anche dei biglietti, dei chilometri non percorsi, chilometri che non percorsi che comunque vengono pagati, nel contempo non paghi di questo che hanno avuto dalla regione e dal governo, hanno pensato bene di disdettare anche il contratto di secondo livello dei lavoratori, sottraendo risorse alle famiglie e mettendo in grave difficoltà tutte le famiglie di questa società. Noi ci rivolgiamo in primis all'azienda, in sostanza, che ha tolto con una posizione unilaterale il 15 giugno del 2020, quindi ha tolto con tutti gli annessi connessi oltre 600 euro i lavoratori e approfittando anche della pandemia, però in buona sostanza loro diventano sempre più ricchi e noi sempre più poveri, perché con questa pandemia in sostanza si sono arricchiti, perché hanno preso, per quanto riguarda il contributo chilometrico, voto per pieno, per quanto riguarda i minori introiti hanno preso i soldi dallo Stato e a noi ci tolgono i soldi. C'è preoccupazione, c'è incertezza, tra l'altro stiamo vivendo una disdetta di tutto il secondo livello che arriva dopo il mancato rinnovo di un accordo che premiava i lavoratori produttivi, dopo l'inasprimento dell'orario di lavoro. È una disdetta che è arrivata in piena pandemia, quindi noi siamo già fiaccati dai ritardi per quanto riguarda l'erogazione della cassa integrazione, quindi abbiamo trovato questa bella sorpresa. Abbiamo dei problemi materiali a concludere proprio la fine del mese, perché ci sono dei lavoratori che vivono soltanto di questo reddito e non possiamo permettere che l'azienda continui a lucrare su questo. Voi comunque continuerete a cercare di avere anche un'interlocuzione con l'azienda? Certo, noi aspettiamo che ci chiami, anche se da parte loro c'è una totale chiusura, hanno messo un muro davanti e noi comunque continueremo a far valere i nostri diritti con la forza dello sciopero.